un saluto a casa a tutti ragazzi io sono giunto 21 dei peggio a caso e oggi stiamo a me c'è cosa ti ha detto ragazzi cosa ti ha detto cosa sto facendo cosa sto facendo no dai beppe ok basta no no dai per favore non posso seguire i blocchi così dai ma me ne feca li distruggo io non è giusto non è giusto addirittura non li posso nemmi cazzare buti mi hanno dato fuori e ti banno ti posso bannare io però poi tutti come sbannare appunto la console comunque oggi siamo su minecraft e la nostra intenzione di spianare questa zona qui davanti casa e fare un mega allevamento un mega di cui di quella recensione si occuperà il nostro peppe ok però prima dobbiamo spianare proprio un bel po e bene qui abbiamo spianato fin fin troppo con la magia dell'editing al solito allora sto dicendo perché circa il video l'abbiamo è stato un'altra parte allora mi chiamo che ci sono abbastanza video di seguito io qui spiano perché mi dà abbastanza fastidio la vista perché noi possiamo allora vediamo cosa sta facendo mi ha pensato a fare quelle staccionate no però sono curiosi vedere cosa fai anche quelle staccionate allora non è niente 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 se mi preoccupo niente 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 preoccupati e poi vado mi rende un impatto dove ospedale no no aspetta no aspetta che andiamoci che dici se facciamo una piramide di terra? perchè? così a caso vabbè come per spiegare la terra ah ok si si ci sta sto albo se deve mandare sinceramente un recinto di 6 dimensioni ti può andare bene? e voglio? di queste? si ah ah posso e quel resto che ci fai? dai tipo metto cesto o qualcosa ehm la voglio fare bella grande via legna vai via qua tutti gli animali qualsiasi tipo di animale tranne i polli giusto? eh anche i 6 bocci li possiamo mettere ah allora tanto le mucche e le pecore ce li abbiamo qui vicino ah no i maiali le pecore poi le mucche si possono trovare anche mucche cioè tu so dove sono non è abbastanza tanto lontano sì però portarle una cazzata no una cazzata non è tanto difficile vabbè solo hai detto il mob spawn in pratica ah perfetto poi ci andiamo a fare un salto al mob spawn tutto qui la diciamo un pochettino perchè noi facciamo le le piramide a caso allora stai facendo sta piramide guarda la tua sinistra adesso guarda fai amati ecco qua ok sindra così il lenni c'è la tua o è nella cesta? no un pochettino io ma 5 blocchi l'altro io sto nella cesta vieni aspetta vado a prendere la cesta ma a me l'hai piazzato gli angoli come sei giusto ahahah però io in pratica questa qui la trasforma diventa avuta quando l'acqua andiamo ma ancora niente l'hai finita cazzo dici che abbiamo fatto una piramide di terra no ho detto sto cominciando a fare la piramide di terra no non lo so cosa ho detto forse sto dormendo non lo so neanche io ah ok perfetto bello c'è proprio che tu dici che ci serve legno cioè hai una foresta non finisce più si lo so ho anche piantato gli altri quindi adesso ne crescono dove li hai piantati? là in mezzo alla foresta ma hai piantato qua davanti no? vabbè del te allora boom 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 allora adesso facciamo anche l'autostrado e per raccontaci la base letta che non hai concluso nel video di terraria minchia non l'ho cercato ahahah raccontaci un altro allora non me ne ricordo la base letta allora cominciamo con le mie battute squalid allora c'è la... allora la base letta mi stavamo dicendo e poi vuole... non vuole sentire proprio le mie battute squalid mare non so come possa venire altro sperimentante buon sperimentamento grazie guarda qui c'è una piramide ma non ha questa cosa questo albo dà fastidio mucchie, fecore e maiani e basta perfetto e la vecchia fattoria poi cavalliii dove i calci facciamo le scudorie e poi poi vabbè si quando li troveremo se li troveremo i cavalli facili che abbiamo dovrebbero spawnare un po' là beh poi andiamo a cercare in caso si se i maiali volano i maiali volano? possiamo lavorare i maiali si lo ricormandolo così no ha nessun senso mettiamo una sella e facciamo guardare insomma ma mi scrivo allora io un'altra l'ho visto ma per le versioni pure molto vecchie 1.4 cosa? c'era tipo il portale del paradiso non so se l'hai mai sentito ma quella è una mod ecco ma è una versione vecchissima cosa è una versione bellissima è stato appena aggiornato latest mod bellissima ma eh per la 1.7 mi pare se non ti sto dicendo una cazzata forse per la 1.6 io per la prima volta che l'ho vista era nel ti parlo della 1.4 o 1.2 no è è aggiornatissimo io anche tipo quando cercavo cose mi ha fatto amare minecraft solo quelle mod in pratica poi vabbè minecraft manina anche molto bene tipo minecraft manina fa schifo non lo facciamo più no allora ovviamente se lo fai è bello solamente se lo giochi con qualcuno oppure lo fai per uno scopo perchè sennò lo costruisci senza nessun motivo e poi dopo un luogo di annoio ovviamente almeno se tipo lo fai su youtube è molto più bello diverti di più cosa sto dicendo apposto non è vero in realtà si annoia ma quanto sei stronzo ma di realtà eh notici perchè è quello di realtà quello che si annoia se tu è vero perchè io mi annoio a fare la cacca su minecraft perchè non si può fare che cazzo c'entra se io adesso salgo comunque la piramide è qui è finita? e dentro metti qualcosa? eh sì lo so ora ci penso io ci penso lui vediamo se lui mette gli alberi appiccicati a casa niente ci può non crescono e io li immesso infatti per bellezza ma non può i tieniti sotto le patate vuoi le patate? non c'è eh amico patate gratis solo per oggi e altri giorni poi paghi eh amico tieni patate gratis che ne ho preso anche io a diritto cosa hai? che ne ho preso anche io a diritto gli altri giorni paghi non ho capito niente niente tranquille ah l'altro mondo prendo di vita ok mi sto emozionando tipo io no? ma non ho capito per forza perchè il nostro mondo sta prendendo video ah ma non mi serve adesso vado qui e mi faccio una pozza infinita che poi in caso dopo chi lo do ah ho capito perchè non è stando efficiente la nostra farm perchè? e che in pratica i mob la non spawnano tanto sono più concentrati a spawnare nelle zone vicine quindi dobbiamo rendere tipo illuminato tutte cose così in modo da far spawnare e da ridurre lo spawning nel mondo normale e da aumentarlo nella nostra farm non so se hai capito si diciamoli si e per dove sei? nella pernuna padana pernuna padana manca come cazzo si chiama sto posto? nella palude ecco palude? si io ho finito diciamolo qui la piramide diciamo poi all'interno ci metto dopo comunque ragazzi la cascata è giunta al termine cioè ho finito di costruire questa cascata ecco come è venuta qualcosa di davvero bellissimo manca come le casgate nelle gare naturali wow ok lasciamo perdere comunque c'è anche il passaggio all'interno qui dentro qui ci metteremo qualcosa anche se non sappiamo cosa sto anche muonendo di fame tra l'altro comunque un saluto a casa da Gio31 e da Franci32 e ci vediamo al prossimo video guarda lui cosa ha fatto lì ci vediamo al prossimo video ciao ciao bello